A livello dei profitti, profitti è un servizio sociale che non può, non deve essere impostato con la logica del mercato. Oggi viene una giornata di sciopero che deve vedere, nel corso della scioprata, una delegazione ricevuta su con il sindaco e diciamo che sia chiamata la delegazione alle forze della mattina. Grazie a tutti.